Ciao fra, guarda un po' dove ti porto a sgarrare oggi Siamo da Clara, una delle migliori pizzerie e compie un cegli di Messina Si trova a Venetico Superiore, praticamente vicino Milazzo E un tre spicchi gambero rosso Ma passando alle pizze, questo è oro verde con fior di latte, pancetta tesa, crema di pistacchio e granella di pistacchio Poi la suprema con crema di zucchina, fior di latte, crudo di parma, pomodori rossi semitrai e mandorle tostate E una carbonara con ovviamente base fior di latte, pecorino romano, guanciale, crema di carbonara e pepe nero Passato all'assaggio che dire, la carbonara fantastica, non hanno fatto una frittata quindi perfetto va Poi passando alla suprema, quella con minore aspettativa tra le tre, mi ha stupito un sacco, buonissimo Invece oro verde che era quella con l'aspettativa maggiore, assolutamente buonissima perché c'era il pistacchio Ma non superava né la suprema né tantomeno la carbonara Ma adesso fra, ascoltami, passiamo al top player della serata, la pizza del mese, pancetta di latte, crudo di parma, fichi e caciocavallo Questa era realmente quella con meno aspettativa per via dei fichi Ma fra, assolutamente prima in classifica tra le quattro, devi provarla, non c'è che dire L'abbinamento dolce e salato è ovviamente l'abbinamento migliore del mondo Mica pizza e fichi va Mica pizza e fichi va